Sì, io amici miei ho tifatto Liverpool, io ho tifatto Liverpool, simpatizzo per questa squadra qua, ne ho la maglia perché adoravo follemente un campione e ve lo mostro, e beh, giocatori come lui onestamente non esistono più secondo me. Ad ogni modo, che dire, prima di iniziare, fatemi dire un po', è uscita l'intervista, top 4 della Serie A, top 4 squadre della Serie A, con 4 rispettivi youtubers, molto bravi, molto simpatici, andate a vedere, hanno dato anche il loro pronostico su questa partita, quindi mai come adesso in tema. E niente, i numeri, i numeri parlano, prima di parlare della partita io parlo dei numeri, 4 coppe in 5 anni, sono 5 anni di fila che una squadra spagnole vince la Champions, e sono 3 di fila che la vince il Real. Numeri pazzeschi, qualcuno si arrabbia, dice sono fortunati, però i numeri parlano chiaro, parlano veramente chiaro. Se andiamo ad analizzare la partita di stasera, giustamente, a Liverpool tutto quello che poteva andare male è andato male, ha trovato un portiere che, proprio al limite del ridicolo, anzi, ridicolo veramente. Poi la sfortuna di perdere il tuo uomo chiave sarà 30 minuti dall'inizio, proprio che, guarda, non lo so, ti deve andare tutto storto. E mi dispiace in particolar modo per questo giocatore, perché ha trascinato la squadra in finale, ha fatto veramente la differenza, e non aver potuto dare l'apporto decisivo in un partito così importante, sicuramente gli peserà tantissimo, tantissimo. Come peserà la nottata a Carocarius, il figlio mio, proprio delle papere date da barzelletta, proprio due gollonzi. Due gollonzi e un golasso. Il golasso di Bale, anche esso rimarrà però nella storia, perché secondo me è molto più bello di quello di Ronaldo alla Juve, proprio bello, una protezza unica. E poi la differenza, se ne andiamo a vedere, sta proprio in questo, no? Salah viene sostituito dalla lana, invece il Real fa il cambio, esce Isco e entra Bale, che ti risolve la partita. La rosa del Real, lo sapevamo, era veramente, era ed è veramente di un altro livello, e c'è poco da fare, lo dimostrano i fatti. Peccato perché il primo tempo, il primo tempo ce lo siamo giocati bene, ce lo siamo veramente giocati bene. Eravamo andati sotto per il gol, l'onzo, e poi subito col pareggio, e poi niente, ripeto, la giocata, la giocata del fenomeno, che nelle grandi partite, nelle partite importanti ti fa la differenza. Ci sta, ci sta, devi scappellarti. Real che, ripeto, vince la terza coppa di fila, questa una delle tante che se andiamo ad analizzarle sembrerebbe immeritatissima, perché se vai a vedere con la Juventus, subisce tre gol in casa e all'ultimo minuto riesce a trovare il gol sul rigore. Con il Bayern è stata una mezza ladrata, anzi, le avrei il mezzo, mezza ladrata. E stasera, la fortuna ha voluto che il giocatore più forte dell'Ivorkus si infortunasse e che trovassero un portiere veramente a non all'altezza. Però, però, cioè, ti devi inchinare, ti devi inchinare al loro strapotere. Come in Italia il campionato può perderlo solo la Juve e non lo perde, qui in Europa sta diventando invece che la Champions la può perdere solo il Real, ma non la perde neanche lei, neanche il Real. Mamma mia, spero che ci sia qualche rivelazione negli anni ad avvenire, perché se no il campionato finisce in un modo, la Champions finisce sempre lo stesso modo. E che diamo, e che diamo, e che diamo. Altrimenti torna tu, caro Steven, torna tu in campo, perché solo gente come te possono dare gioia alla propria squadra e far alzare la coppa come facesti tu. Va bene, va bene ragazzi miei, buona, buona serata, passate veramente a vedere l'intervista. E niente, un grande abbraccio da Neschio per stasera, forza Liverpool lo stesso. Se ancora non l'hai fatto, lascia un like alla mia pagina Facebook, iscriviti al canale YouTube e seguimi su Instagram.